Avrebbe aggredito con un grosso cacciavite i proprietari di una villetta durante un tentativo di furto. È avvenuto alla periferia di Putignano, nel Barese. Le vittime e due fratelli sono rientrati in casa e hanno sorpreso i due ladri. A quel punto uno dei due, un quarantenne incensurato di nazionalità albanese, ha reagito aggredendoli mentre l'altro è fuggito. I due ladri erano entrati in casa forzando una finestra sul retro durante la violenta aggressione dopo essere stati sorpresi dai proprietari mentre svaliggiavano l'abitazione. Uno dei due ladri ha più volte ferito con un cacciavite le vittime, che nonostante i fendenti ricevuti sono riusciti a bloccarlo fino all'arrivo dei carabinieri. I militari hanno arrestato il quarantenne per rapine in abitazione e lesioni personali aggravate, mentre i due fratelli sono stati soccorsi e trasportati nell'ospedale Santa Maria degli Angeli per le ferite riportate nell'aggressione giudicata e guaribile in 15 giorni. Anche il rapinatore ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Nella villetta i militari hanno sequestrato un paio di guanti in lattice, uno scaldacollo, un cacciavite e la chiave di un'auto. Nella casa dell'arrestato a Sant'Eramo in Colle sono stati trovati inoltre ulteriori arnesi da scasso flessibili e ricetrasmittenti.